Ben tornati o benvenuti se è la prima volta che ascoltate i miei podcast. Vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati. Le ultime notizie dalla casa del grande fratello arrivano riguardo a Tommaso Zordi che continua a provare un forte astio nei confronti di Giulia Salemi. È convinto che lei, in nome di una conoscenza fatta passare per amicizia, abbia voluto avvicinarsi a lui per sfruttare l'ampio consenso di cui egli godi sui social. Inoltre sta anche insinuando che Giulia approfitta del rapporto sentimentale con Pierpaolo perché legarsi ad un finalista le permetterà di avere più possibilità di arrivare all'ambita finale. Proprio per ostacolare il percorso di Giulia, Tommaso propone senza remore ad alcuni concorrenti che sono in sua compagnia, nello specifico a Stefania, Andrea Zelletta, Zenga e Pierpaolo, di nominarlo perché vorrebbe andare in nomination insieme a Giulia. Praticamente, secondo lui, metà dei concorrenti dovrebbe nominare Giulia e l'altra parte lui. Stefania, che è lì sul divano distesa assieme a lui, pur sorridendo, si dice contraria. Ritiene che questa formula non potrà essere accettata dagli autori. Zorzi, invece, afferma di averne già parlato in confessionale e da là sarebbe stata concessa piena libertà al riguardo. Stefania, comunque, continua ad insistere essendo scettica perché ammette di conoscere l'esito di una tale scelta. Per Paolo, visibilmente coinvolto, tenta di far cambiare idea a Zorzi, cercando di fargli capire che Giulia si è tranquillizzata, adesso ha accettato le sue considerazioni e pertanto li starà alla larga. Nonostante gli sforzi, sembra però che per Paolo non riesca a convincere Tommaso, che proprio molto ostinato e spinto da una grande voglia di rivalsa, desidera dimostrare a tutti quanto sia forte. Non penso però che gli altri concorrenti siano disposti ad accettare di assecondarlo, ma se nel caso dovesse avvenire ciò, mi piacerebbe davvero che fosse Zorzi a dover uscire. Non ammiro le persone che si sentono di valere più degli altri. Un conto è l'autostima, un altro è credersi narcisamente invincibili. Una buona dose di umiltà renderebbe Tommaso sicuramente migliore. Per questo è tutto, se vi va esprimete i vostri pareri tramite i commenti. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto. Alla prossima!